Benvenuti amici, io sono Salopimpos e oggi siamo su il mio Talking Tomcat 2 Il gattino fighissimo, è uscita la versione 2, vediamo un po' di che si tratta Allora, sono un maschietto Che carino E lui? Viene spedito con un palloncino Ciao micetto No, non avere paura, tranquillo, non ti faccio niente Per ora Ciao, io sono il tuo padroncino Ti piaccio? Mi fa piacere Estraiamolo direttamente dalla scatola Ok Eccoti qua, cadi così impari Che figo Che faccio? Giochiamo a palla Interagiamo con... Ok, lo alzo E che facciamo? Ci gioco Possiamo farci di tutto e di più ragazzi Ti metto qua, seduto Aspetta, aspetta, c'è una pallina qua È felice Ok, la pallina significa che è felice Deve mangiare E gnam 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 che cosa? Aspetta Che figo È una specie di tamagotchi Eh, che mangiare? Ok, la carota Ti piace? Ti piace la carota? Ti piace l'odore? Le carota non fanno odore Quindi è inutile che odori Te mangiare? Ti piace? Ti piace? Meno male che ti accontenti di poco Eh, vacci da solo in bagno Non è che... Eh, ti butto nel cesso Va Fis E non è che ti ci devo portare io Ok, vacci Fai la pipì Chi è questo ogni volta spunti? Che vuoi? Caccia Fatto? Oh, ora sonno Eh, avanti Vuoi cantare pure la buonanotte O la nina nana? Non lo so Dormi qua Dormi Pure la luce Hai paura del buio, gattino? No Sta dormendo Se ne sta fregando la mia presenza Ok Dai un nome al tuo gattino Va bene Tom Forno, non lo sai il tuo vero nome Va bene Tom Tom va benissimo Ok Ha dormito? Ti senti? Ma chi è quello? Ok, livello 2 Che figo Mille... Che cosa? Mille per... Che è sta cosa? Un viaggio È un amichetto quello Lo metto dentro l'aereo Ok Dove andiamo di bello? Esploriamo noi mondi? Quanti mondi? Tutti questi mondi dobbiamo esplorare? È bellissimo Ci sono un sacco di mondi Ok, andiamo qua Quindi non è un semplice Tamagotchi È proprio un... Un gioco bello Ok, apriamo Delle carte Frutta Un peperoncino E una mela Prendiamo Ma si mangia il peperoncino? Il gatto? 10 monete Ok 25 exp Credo sia exp Non lo so È un costume da bagno Bellissimo Mettiamolo Mettiamolo Avventura Tropicashi Manca la maschera Quindi dobbiamo anche collezionare le carte Prova Apriamo l'armadio Costume da bagno Seleziona Stai benissimo Tom Sei il gatto più bello del mondo Bellissimo Chiudiamo Consentire al mio Talking Tom 2 Di registrare audio? Ok, consenti Ciao 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 Io sono Salvo Pimpos Io sono Salvo Pimpos Mi fa piacere che tu parli come me Mi fa piacere che tu parli come me Adesso stai zitto perché devo fare il video Stai zitto perché devo fare il video Bravo Ok No, però non ripeto ogni 5 minuti perché ti stacco le orecchie Perché ti stacco le orecchie Bravo, hai visto che hai capito Ho visto che hai capito Come si disattiva sta cosa Ma non parla di più Ah, non parla di più Ecco, ti faccio volare così in pace Prendiamo le carte Ok, raccolta Capitano pirata Ci sono una serie di carte da collezionare Nuoto libero Ovviamente ci manca la maschera Ok Ovviamente queste carte potranno essere collezionate Man mano che faremo i viaggi Quindi ottima cosa Ottima cosa Allora, non sei tanto contento Giusto? No, non mi copiare Vai a giocare con i videogiochi Forza Allora Gioca giochi Scie spaziali Sveglia Strizze Tom Cupido Vediamo di che si tratta Round 1 Ok, dobbiamo colpire E che fai Colpiamo come se non ci fosse un domani Fatto Round 2 Quindi Ok Non è difficile per niente Ah ok Non dobbiamo colpire le frecce Già presenti Perfetto Fatto Gli ho spezzato un cuore Aspetta Aspetta Che qua le cose si fanno più difficili Fatto Round 8 Adesso cambia pure direzione 9 Ok Vabbè Round 10 Direi di abbandonare Vuoi abbandonare? Sì Le cose me le ha dato lo stesso Giusto? Punteggio Perfetto Hai guadagnato 12 punti viaggio Quindi Dobbiamo fare i punti viaggio Per poter viaggiare Grande Proviamo Sveglia No Proviamo strizza Eh Che è? Evita gli insetti Ok Me ne ricorderò Possiamo trascinarlo a sinistra e a destra Questo qua che posso fare? Infilati nel passaggio Ok Si restringe Quindi va diventando sempre più grosso Piccolo e bello Sì effettivamente Va diventando sempre più grosso Dobbiamo farlo rimpicciolire Altrimenti esplode Punti viaggio Quindi giocando Accumuleremo punti viaggio Sta diventando grosso Mettiamo Restringiamolo qua Tizio Stai diventando troppo grosso Restringiti Altrimenti esplodi Di qua Di qua C'è un insetto Qua Un cuore Ok Prendiamo da qua Ah Troppo grosso Non ci passo da qua Ci sono passato Ok Di là Di là Di qua Prendiamo di qua Prendiamo di qua Ok Infiliamoci Da queste parti Insinuiamoci Di là Aspetta Aspetta Siamo a 12 punti viaggio 13 Prendiamo questo Uno scudo Velocizziamo Ah sta diventando grosso Stai diventando grosso Non mangiare più Non mangiare più Perché stai diventando Troppo cicciolo Ok cuore Sto andando benissimo Sto andando benissimo Però lui è troppo grosso Non ci passa più Ahia Si sta facendo veloce Molto veloce Tra l'altro io prendo pure le rampe di lancio Qui Le rampe di velocizzazione Ho perso un punto Aspetta Andate troppo veloce Nella vita Ecco Diminuiamo un po' la velocità Andiamo qua Prendiamo qua Prendiamo da questa parte Quello l'ho lisciato Diminuiamo un po' Aiaiaiaiai Ho preso Ho preso un ragno Aspetta Mi sono bloccato Aspetta Aspetta Mi stanno mangiucchiando Tutti alla fine Mi stanno colpendo Prendiamo questo Prendiamo questo Rampa di lancio Di qua Di qua Ok Siamo a 700 metri Aspetta Aiaiai Mi ha mangiato No Va bene così Punteggio 9570 29 Punti viaggio Qui per fare un viaggio Però ci vuole veramente Tantissimi punti ci vogliono Apriamo queste ceste Giocattoli Dondola Dondola Ma che bello Dondolare Adesso ti faccio cadere Dalla Dal dondolo Ti faccio cadere Da Dall'altalena Non cade Ok E' felice Dobbiamo farlo mangiare Vai a mangiare Vuole la mela o il peperoncino? Vuole la mela o il peperoncino? No Io chiedo a te Vuole la mela o il peperoncino? Io chiedo a te Vuole la mela o il peperoncino? Voglio il peperoncino Voglio il peperoncino Bravo Visto che sei scegli nella vita Ok Vai Eh così impari Ti faccio vedere io Ok Ah pure si Possiamo comprare le cose Va bene Possiamo fare la spesa Pozione adulto Pozione bebè Pozione affamante Pozione amante Va bene Poi Dolce a non finire Altri dolci a non finire Tra cui il sushi Che non è un dolce comunque Funghi Comunque ogni cosa Si acquista Quindi le stelle Non sono Exp Sono Un altro tipo di moneta Va bene Vai in bagno Forza No no non parlare Vai in bagno E stati zitto Testa di gatto Bra Eh fai quello Lo dobbiamo lavare pure Fa un po' schifo Fa un po' schifo Tom Vatti a lavare Vatti a fare il bagno Vai Un po' di sapone Ok Un po' di giallo Prendo pure a te Che già mi hai fracassato le scate Eh così impara Questo verde costa Eh ci sono pure i saponi colorati Tutti che costano Questo razzo Vediamo Proviamo questo Tante bollicine Multicolore Ok basta Ti sei lavato abbastanza Sei pulito Sei splendente Ottimo Ti curo Che c'è qui No stai benissimo Quindi niente Non è venuto che ti curo Non è venuto che ti curo Bravo visto che lo sai Perfetto Vai a letto Che già c'è Fracassato le scate Sto fatto Che ripeti tutto Ragazzi fatemi sapere nei commenti Come si disattiva questa cosa Che lui ripete tutto Dormi Dormi Da pugni Devi dormire Devi dormire Ti spengo la luce Oh Così impari A ripetere come un pappagallo Bravi Se c'è pure l'amichetta accanto Ok Eh devo stare qui per quanto Per tanto Per molto tempo Quindi tecnicamente mettendolo a letto Noi possiamo chiudere anche il gioco Ma ancora energia ne abbiamo Quindi sveglia Sveglia Andiamo a continuare Tu svegliati pure Testa di ramoscello Sveglia Sveglia Alzati a sto letto Ti faccio vedere È fighissimo Ok Che c'è qua da prendere Livello 3 Perfetto 1500 punti viaggio Possiamo viaggiare Possiamo viaggiare Andiamo a viaggiare Forza Allora Infiati qua Dove andiamo? Andiamo a cercare di recuperare La maschera Tra l'altro non possiamo andare oltre qui Quindi prendiamo queste ceste Un'altra ceste Vediamo che c'è qua Che troviamo? Ok Due carote Perfetto Poi Cinque monete Che non guastano mai 25 stelle E la maschera Vi prego Datemi la maschera No Che è sta Armadietto di bambù Ma chi se ne frega Dobbiamo collezionare pure questi Ma io volevo la maschera Va bene Va bene Fatto Armadietto Preso Proviamolo Proviamolo Seleziona Carino Carino Ce ne sono altri Ovviamente questi si sbloccano Poi si acquistano Vabbè Mi tengo quello Pure Pure la carta da parati Piastrelle da bagno Ci sono un sacco di personalizzazioni Da poter fare Possiamo cambiare Pure il bagno Possiamo cambiare Che figo questo Il tappeto Tappetino soffice Tappetino con bolle La vasca da bagno Carina E le piastrelle scintillanti Possiamo cambiare pure le piastrelle Va bene ragazzi Quindi se vi piace vi porterò un altro episodio Quindi fatemi sapere nei commenti se volete altri episodi di questo fighissimo gioco Seguitemi anche sulla base di Facebook Twitter Instagram Tutti i social Di cui trovate il link in descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Salvo bimbo Se vorrei non mi sfruttare Per fare il finale dei tuoi video Capito? Testa di namuscello Ciao Oggi siamo su Astle Castle Siamo su Bluestacks Ragazzi Perché questo è un gioco Che secondo me Rende benissimo Su schermo Più grande Rispetto ad uno smartphone Via di Faccio tutto Clicco a caso E combatto a caso Clicco a caso